Angiolette sta con me Angiolette sta da parte mia Angiolette tu stai con me Tava piaciuta Tava piaciuta Ciro Non c'è tanto Ciro Sa tanta gente ancora con me Si Mi tengo a Leuccio A chi? A Lele Si 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 Siendo Ciro Lele Tu stai con me Andrei Paglia 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 Ciro Stai tranquillo Ciro Per chi non tenga paura di te Per chi sta da nascendo ancora E sta con me Non arriva Piero ora Ah eh? E volo vai poco Pega pierna A pierna Pega il mio piede Saga il mio piede Saga il mio piede Oè Pier Tu stai con me, o vera Vieni, zuccherati Oè Ciro Statta tranquilla Perché sta ancora la gente E sto sicuro che che la gente Sta con me E chi è E chi è Sta con me E chi è E chi è sempre sta con me Tu stai con me Statta con me Statta con me Statta con me Ci dita più Pa, 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 pa Ma vuoi far capire? Ma vuoi far capire? Ma vuoi far capire? Ma facci da riprenda Chi deve arrivare? Statta con me 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 Ci sta una persona che sta con me Ci sta una persona che sta con me Dicendo Damiano Ma dov'è vero? È forte E sta con me Statta con me Ma ci vuoi fare la persona che apprendi? Dicendo E io Damiano Damiano sta con me Hai il mitra? Dava, 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 Dava Chiudo! Io non tengo paura Non hai paura? Non hai paura Non hai paura Tu sei uno strunzo a punta e urtiella Non hai paura Non hai paura Non hai paura Stai perusso con me Stai perusso Si Quei lopini Tu stai con me, vero? Stai perusso Stai perusso Se non fossi Don Pietro Salastano Potessi pure avere paura Ma siccome mi chiamo Don Pietro Salastano E Don Pietro Salastano Io non tengo paura Per chi tenga un figlio Aqui Genie Salastano Genie Salastano Stai con me Oh figlia mia A creativa mia Stai con me Non hai paura Non hai paura? Non hai paura? Non hai paura? No Non hai paura? Non hai paura? Non il giorno È tutto a cà Si Danilo Si Danilo Come Danilo? Si Danilo Oramai Olido Azzurro EURUS grazie 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 allora io voglio dire subito una cosa che era da tanto tempo che aspettavo questo momento ho partorito ho partorito ma non un figlio ma una serie di talenti che hanno deciso di unirsi e di intrecciare le loro vite e di diventare una squadra perché questa non è un'equipe questa è una squadra